TENANTE DE MOCELLO LUIGI RIZZO Io non ho nulla da dare in cambio della mia libertà Anche in questa lampadina c'è una resistenza Alla fine la resistenza si vocerà Io sono qui per quel che rappresento Io sono la memoria vivente della vostra scoperta Io ho dimostrato al mondo entero Che anche i tedeschi e gli austriaci si possono evitare Scazzone! Se il suo marito non confessa Noi non avremo altro scelto Se io fossi sua moglie Vivrei nel terrore Mia moglie mi ha sposato sotto un bombardamento Mi credo È abituata al terrore Stavamo combattendo e soffrendo Per chiudere quella guerra Con la certezza che sarebbe stata l'ultima E purtroppo ci sbaiavamo E purtroppo ci sbaiavamo No! Grazie a tutti.